gratitudine vuol dire gioia di vivere che vuol dire grazie a dio grazie al creatore lui la sorgente della vita e non lo potremmo mai capire se non diciamo grazie del dono della vita che ci ha concesso primo dono primo grande dono se siamo qui oggi è grazie al dono della vita allora questa vita che è nata dalla sorgente di dio del creatore noi sappiamo che questo dio ama e dice san giovanni dio è amore allora abbracciando la nostra vita noi incominciamo a non dico capire perché non si può capire l'amore però forse abbiamo bisogno proprio di voler capire l'amore anche perché è l'esigenza più forte più continua continuativa proprio dal mattino alla sera abbiamo bisogno di sapere che qualcuno ci ama se diciamo grazie per il dono della vita arriveremo anche a accogliere il suo sconfinato amore allora chiudiamo gli occhi allarghiamo le braccia stringiamoci un po' e poi coccoliamoci un po' non aspettiamo che siano sempre gli altri che ci vengono a dire che ti voglio bene e coccoliamoci un po' il signore vuole che ci amiamo se no non possiamo accogliere il suo amore la la sua tenerezza